Il collegamento della madre C'è Annalisa Lunetti qua E stanno facendo le prove Siamo andati in diretta su Rai 1 Io Lucianino, mascotte di Miss Parco del Cilento E poi il 7 agosto presentiamo Miss Sapri in piazza San Giovanni A Sapri, ore 21, venite Le prove si fanno alle 17.30 E portatevi i tacchi Tutto a posto Il vestitino da sera, l'abito da sera Portatevi pure i tacchi Un fai di scarpe da tennis E poi cosa più Portatevi pure un pantaloncino Blue jeans Facciamo tre uscite Il costume Portatevelo il costume Mi raccomando Io sono l'usarino La maschera Quindi Villamare Davanti Villamare La sera Annalisa Minetti In concerto Vedete Villamare Stiamo facendo anche la partita Facendo anche la partita Di discipoli Ragazzi La spiaggia Tutta a mare Grande, grande, grande Grande concerto stasera Proviamo a Annalisa Minetti Il concerto E' tutto Dav Villamare Un abbraccio Lucia, Nino Forza Napoli Forever Ciao Saluto allo zio Ciao zio Ziolello Ciao Ciao ziolello Ciao Anna Ciao 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 Ciao